www.feyyaz.tv 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 Ma perché dovevi chiamare una puttana? Per tutto, ti dà una mano, dolori, eaculazioni precoci, blocchi mentali. Hai già visto? Sì, alcuni ce l'hanno. Però volendo posso anche farmi fare una sega e basta, no? Ma sei scemo, c'è una sega a 150 e la faccio io. www.feyyaz.tv Vorrei mettere la testa fuori dal finestrino, però c'è sempre paura di una galleria, di un palo. E quindi non lo fai? Eh, no. Però io lo voglio fare. www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv